salve bentornati ancora una volta su radio alastore letteralmente l'unica radio hai rotto il cazzo infernale che vi tiene compagnia come sempre io sono alastore e più perspicaci di voi forse avranno già sicuramente notato che l'ospite di oggi è piuttosto ingombrante non ce l'avevi uno studio più grande? non ce l'avevi un ego più piccolo? tesoro tutto quello che ho è grande ed eccoci che ricominciamo con i sottintesi sessuali spero che siate contenti con chi stai parlando non importa possiamo passare alla parte dell'intervista dove è finita e me ne posso andare? ma certo signore e signori ho il piacere di avere in studio per la prima volta uno dei sette peccati capitali il re della lussuria in persona diamo il benvenuto ad Asmodeus dunque mio caro avrei un paio di domande dimmi culetto di cervo come accidenti sei entrato? dal tetto è ovvio ti sei scalato l'intera torre in stile raperonzolo mi sorprende il fatto che non mi hai sentito sfondare tutto sei veramente cazzo enorme l'ho capita l'antifona in questo episodio il fatto che io sia enorme è un'ottima scusa per fare battute ascoltate sei veramente cazzo enorme è io che ho rinunciato a lucrare su delle puttane per questo il che mi porta alla seconda domanda perché sei qui? voglio dire tu Asmodeus uno dei sette peccati capitali letteralmente uno degli esseri più potenti dell'inferno cosa ti ha spinto a decidere di scalare la torre di questo hotel per partecipare al mio podcast? vedi il figlio del fratello del cognato della sorella della nonna del prozio acquisito del cane del barbiere dell'amante del pompiere di fiducia dello zio della sorella del padre dell'ex collega del mio amante Fizzarolli ha sentito per caso un episodio di questo podcast in cui si parlava di questo hotel che ridime anime come persino lucifero abbia avuto un cameo involontario sono attanto così dal riuscire a convincerla a fare un episodio insieme e ho pensato ehi perché non fare un salto al girone della superbia e partecipare a un'intervista? avresti potuto chiamare il nostro numero così almeno potevamo organizzarci meglio devo essermelo perso nessun problema approfittiamo di questo momento per invitarvi a chiamare al nostro numero 6666666663 dunque da dove cominciamo? scusa un istante salve salverei mister Alastor sono Panda Pandoro e vorrei tanto ringraziarla per tutto il tempo con cui mi trattiene grazie alla sua radio e salve anche lei sua maestà Asmodus non mi sarei mai aspettato di avere l'onore di parlare con lei spero un giorno di riuscire a partecipare a una serata alla sua tana mi dicono che sono molto... intriganti un saluto anche a te mio caro non vedo l'ora di sfondarti il culo tornando a noi che ne dici se cominciamo dalla tua hit più popolare nella casa di Asmodus da quanto so è stata completamente improvvisata oh si inizialmente doveva essere una provocazione per convincere uno sfigatello a non cantare una canzone d'amore nel mio locale e di certo non immaginavo un tale successo e quell'altro che canta con te non è Fizzarolli? oh lui è il mio amichetto del cuore e chi ha orecchie per intendere intendo e tutti gli altri sotto un ponte bene mio caro signore di cos'è che si occupa generalmente all'ussuria? scopare duro ovviamente il mio compito è seviziare e dare piacere per... ehi là che succede? no niente in genere in questo momento dovrebbe squillare il telefono e comincerebbe una pesante conversazione con Angel con chi? oh solo un pastidioso ragno pervertito che si diverte a sfiancarmi oh pervertito hai detto? si ma meglio così possiamo concentrarci sull'intervista in santa pace mmm si c... cosa vuoi fare? avanti cerbiattino dammi un bacino cosa? nooo mmm chissà cosa sta facendo Al brutto maiale ehi puoi dirmelo in faccia magari sopra di me non tu il re della lussuria vuole fare chiarmi il sedere che cosa? se c'è qualcuno che ti fotterà il culo quello sarò io passamelo si ascoltami brutta gallina abnorme giù le mani dal mio demone della radio o ti stacco il cazzo a morsi e l'ho già fatto due volte oh eccitante mi piacciono le cose hardcore siamo tornati amici perchè ho una museruola? così te ne stai buono pensi davvero che una misera museruola possa fermare il signore della lussuria? no ma tu si accidenti ha giocato sulle mie insicurezze ma non importa posso sempre provare a togliermela e come? con le mie mani non mi hai ammanettato nonostante mi piaccia da impazzire quali mani? cosa? brutto bastardo hai fatto la cosa di multiverse of madness sono proprio una scarlet witch no tu sei una scarlet bitch me lo dice sempre tua madre non ci crede nessuno che sei andato a letto con mia madre tu sei asessuale appunto pensa quanto era disperata basta così io me ne vado senza le mani e quella museruola? fidati ho fatto miracoli in passato senza bisogno delle mani io non posso immaginare una vita senza le mie mani posso farci un sacco di cose tipo accendere la radio mi dispiace al ma i porno radiofonici non sono avvincenti come quelli audiovisivi lo dici solo perché non ti sei mai fatto una sveltina su una radiolina ti masturbavi sulle radio in vita oh guarda il momento di rispondere a una domanda dei fan dreams pegasus che cosa ne pensi delle canzoni di Verossica Mayday? credo di aver sentito qualcosa in radio ma non è proprio il mio genere Verossica fa i pompini da urlo e per oggi è tutto vi ringraziamo per averci seguiti ricordatevi di iscrivervi mettere mi piace e se volete sostenere anche voi la serie trovate il link del Patreon in descrizione ringraziamo i sostenitori Econa CT09 Vittorio Morelli Mike D92 Ryugis X108 Panda Pandora e Chris Cogito che hanno reso possibile questo episodio Asmodeus vuoi dire qualcosa? questa è la peggiore intervista che mi abbiano mai fatto restate sintonizzati ok non so come uscire da questa stanza mi potresti ridare le mani? oh Asmodeus non cambierai mai grazie 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 grazie